Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di questa mattina, domenica 25 febbraio. Vi ricordo che la settimana prossima, cioè domani lunedì, poi mercoledì e poi giovedì, in prima serata, Matrix andrà in onda su canale 5 per vedere cosa succede a queste elezioni e fare il conto con tutti i leader. Questo microfono è proprio brutto così, vabbè, però comunque mi sentite meglio. Allora, buona domenica a tutti, oggi i giornali, vi dico, mi danno tantissimi spunti. Beh, intanto ieri ci sono state le inutili, incredibili, ipocrite manifestazioni dell'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, che non riesco a capire perché siano state fatte. Uno dice c'è un'emergenza, quella del fascismo, e quindi facciamo le manifestazioni dell'AMPI, insomma è evidentemente una strumentalizzazione elettorale, però i populismi sono gli altri. Oggi in un'intervista, infatti, Gentiloni, presidente del Consiglio, persona, il conto Gentiloni, piuttosto sobria nel 90% dei casi, in piena campagna elettorale, tirata dalla giacchetta ovviamente da Renzi, riesce a dire voto utile contro il populismo, adesso il fatto che si debba votare un partito piuttosto che un altro e che votare il PD sia un voto utile, è un po' quello che mi ha detto Berlusconi giovedì, votate Silvio perché è il voto utile, ci sta. Cioè ogni partito pensa che il voto a se stesso sia utile, tanto più il partito è grande, tanto più pensa che il suo voto sia utile. Quello che non ci sta nella lunga intervista fatta a Repubblica da Gentiloni è la contrapposizione, cioè vanno prima la manifestazione dell'AMPI contro i razzismi, contro tutte queste minchiate di cui si riempiono la bocca in piazza, e dall'altra dice che da una parte ci sono i valori democratici, dall'altra il populismo e il sovranismo del centrodestra del Movimento 5 Stelle. E allora ci siamo, è la solita, come possiamo dire, tiritera per cui noi siamo bravi, noi siamo progressisti, noi siamo dell'AMPI, noi siamo della resistenza, gli altri fanno cagare, chiaro? Quindi se votate noi non è il voto utile, è il voto democratico, se votate gli altri è il voto sovranista. Grande applauso a Gentiloni perché in questa maniera fa prendere voti al Movimento 5 Stelle e al centrodestra attraverso questa dichiarazione più che inutile, scema. Sulla manifestazione di ieri non vi sto a rompere le scatole su tutte le tensioni, i cretini, i centri sociali, cose che il centrodestra si è finalmente accorto che si debbano chiudere. Anche questa è una, come possiamo dire, una di quelle grandi promesse elettorali che non verranno rispettate perché destra, non quella del centrodestra, ma quella della destra e sinistra hanno sempre goduto nel alimentare questi centri sociali. I centri sociali lo vanno chiusi, lo chiedono, non lo faranno mai, neanche se vince la destra, ma i centri sociali bisognerebbe chiuderli, come bisognerebbe impedire di andare le persone per strada col casco, va bene? Se una persona va col casco e ha un bastone, si arresta, si prende e si dice scusami, vai in galera. Così come la legge Scelpe impedisce di fare il saluto romano, ci sono le leggi speciali degli anni 70 che impediscono di avere il casco indosso quando si fa una manifestazione. Quindi perché in un caso la legge la applichiamo e nell'altra no? Perché uno è un comunista e l'altro invece è un fascista? Ma la cosa divertente di oggi è il tic che hanno i nostri giornalisti. Guardate, bisogna leggere gli articoli, io lo faccio per voi, e devo dire che qualche volta è un sacrificio, come quando leggo Marco Imarisio, oggi o come si chiama sul Corriere della Sera, pagina 2 del Corriere della Sera, che dice che i due eventi neri, cioè la manifestazione a Bologna del 16 febbraio e quella di venerdì di Casa Pound a Torino, sono considerati gli eventi neri, tra virgolette scrive lui, ma eventi neri, come se noi si chiamasse gli eventi rossi, quelli fatti da potere al popolo o dai comunisti o da sinistra e libertà. Comunque ci sta, ognuno si prende il colore che vuole, ma il punto non è definire eventi neri, tra virgolette, gli eventi di Casa Pound e di Forza Nuova, che neri sono, ovviamente si rifanno al fascismo, ma è che non possono certo produrre proselitismo. Allora Imarisio, il giornalista, sostiene che i due incontri organizzati da Casa Pound e Forza Nuova non potevano fare proselitismo, mentre gli incontri fatti da tutti gli altri fanno proselitismo. I loro non erano per fare proselitismo. Perché, dice Imarisio, non potevano fare proselitismo? Qual è il retropensiero del giornalismo italiano? Prova fatta nell'implicita speranza che qualcuno reagisse. Pagina 2 del Corriere della Sera, cioè Casa Pound e Forza Nuova fanno le loro manifestazioni, cioè in realtà fanno dei piccoli comizi, vanno nei bar, cercano di stare da qualche parte. Perché? Perché sperano che qualcuno reagisca. Avete capito? Se la stanno cercando. Questo è il concetto, cioè noi sul Corriere della Sera, il giornale migliore italiano, più moderato italiano, abbiamo un giornalista italiano che ci racconta in un pezzo di cronaca che questi fanno le manifestazioni perché sperano che qualcuno reagisca. Cioè guarda il dito, non la luna. La luna è che questi hanno reagito, che questi merano i poliziotti. E che non c'è bisogno, caro Marco Imarisio, delle manifestazioni nere perché i centri sociali reagiscono. Ti vuole entrare in testa? Quando Fedez e i No Global il primo maggio fecero qua le manifestazioni qua sotto a Milano contro No Expo, non c'erano i fascisti, c'era Beppe Sala, quello che fa l'accoglienza a Milano, e hanno distrutto la città e hanno menato i poliziotti. La stessa cosa la fanno in tutte le loro manifestazioni. Ti entra nella testa Marco Imarisio che quei centri sociali non reagiscono alla provocazione dei fascisti ma vanno in piazza solo e sempre a menare? È così difficile da capire che ci sono in Italia i centri sociali che vogliono solo le botte? No, è troppo difficile probabilmente. Per fortuna che c'è sullo stesso giornale Galli della Loggia, per fortuna, oggi sul Libero leggete, no sulla verità leggete Panza, ma è sempre interessante quello che dice Panza, ma quello che dice oggi Galli della Loggia è di una realtà, come posso dire, plastica. Lui dice smettetela di romperci le palle su questa Costituzione basata sulla resistenza. Lo dice Galli della Loggia, non lo dice Casa Pound, non lo dice Forza Nuova, non lo dice un liberale come il sottoscritto. Il dire che la Costituzione è basata sulla resistenza è una minchiata, dice Galli della Loggia, per un solo motivo, quale resistenza? La resistenza direbbe Panza di Bisagno, il resistente cattolico morto in un incidente di cui non si sa molto, la resistenza, l'antifascismo, l'antifascismo non è una roba sola, dice Galli della Loggia. Anche i brigatisti rossi si definivano antifascisti, chiaro? Anzi, erano forse i più antifascisti che ci siano, anche quelli che tra il 43 e il 45 uccidevano gli italiani sbattendoli nelle foibe erano antifascisti, ricorda Galli della Loggia. Anche quelli che resistevano contro l'impero comunista, le invasioni sovietiche erano antifascisti, ma non ve li siete filati, voi comunisti italiani, resistenti italiani, un pezzo di Galli della Loggia straordinario, in cui dice, non diciamo cazzate, la Costituzione non si basa sull'antifascismo, perché l'antifascismo sono tante molte cose, certo non si basa sui pregiudizi brigatisti che erano sicuramente antifascisti. Fantastico oggi un pezzo di Vittorio Feltri, perché Vittorio Feltri deve aver ricevuto ieri dei messaggi sms da Mario Calabresi che non deve aver sopportato qualche articolo di Vittorio Feltri. E oggi Vittorio Feltri che chiama Mario Calabresi, cioè il direttore della Repubblica, l'orfano, cioè l'uomo, il padre da Mario Calabresi ucciso da una campagna di stampa, quella sì, di comunisti, di merda e di intellettuali di merda che hanno permesso che venisse ucciso il commissario Calabresi attribuendogli un omicidio che non aveva mai commesso. Bene, beh, allora il Vittorio Feltri oggi prende in giro l'orfano, cioè Mario Calabresi come lo chiama Feltri, e dice, svela che ieri l'orfano gli ha continuato a mandare dei messaggini tra cui uno di quelli diceva sei un ubriacone. E Feltri dice, insomma ne dice di qualsiasi colore, e dice in realtà più che la cosa che sta avvenendo è che perde, più che il sottoscritto che ha perso la lucidità, è lui che perde copie e quindi perde la testa. L'altra cosa incredibile di ieri, fatemelo dire ancora per qualche secondo, fatemelo dire un obiettissimo intercalare, lo dico per qualche secondo, è che ieri durante le manifestazioni, secondo quanto scrivono tutti quanti i giornali, c'era Amnesty International Italia che controllava il comportamento dei poliziotti per monitorare il rispetto degli standard internazionali sull'uso della forza da parte delle forze degli ordini. Mortacci vostra, mortacci vostra. Io quando vedo uno di Amnesty International che mi chiede un euro, lo mando a quel paese. Ma come vi permettete di prendere in considerazione la parte sbagliata della barricata? State controllando sul rispetto da parte delle forze dell'ordine dei diritti di quei delinquenti. Troppo rispetto c'è nei confronti dei centri sociali, troppo rispetto nei diritti dell'uomo, non c'è nemmeno troppo di rispetto nei confronti dei diritti dell'uomo, ma abbiamo delle polizie inerme che se si permette di fare qualcosa viene denunciata e abbiamo dall'altra parte gente che scende col casco e Amnesty International si permette in Italia di controllare come lavora la polizia. Sapete che vi dico, c'è il ministro degli interni, c'è la magistratura, ci sono i giornalisti, ci sono i fotografi, c'è tutto il mondo che controlla. Non date più un euro ad Amnesty International, sono soldi buttati nel cesso. Dategli alla chiesa, dateli ai buddhisti, dateli al vostro partito, dateli a qualsiasi organizzazione, ma dare dei soldi a delle teste di cavolo che vanno in piazza a controllare come si comporta la polizia dopo quello che è successo nei confronti della polizia nelle ultime settimane è un insulto. È un insulto, segnatevelo. Amnesty International Italia. Non ipocriti, peggio di ipocriti. Loro vogliono dare il senso che controllano questa polizia che non si comporta così bene. Io la trovo una cosa disgustosa. Beh, straordinaria. La Boldrini, la donna con le fake news, intervista di oggi, sapete cosa chiede la seconda carica, la terza carica dello Stato, Laura Boldrini, candidata di Liberi e Uguali, oggi in un'intervista al Corriere o a Repubblica, non me lo ricordo, dice troppi soldi all'ultra destra, chissà chi li finanzia. Allora, quella che sta contro le fake news, cosa fa? Una fake news ipotetica. Certo, non dice chi li finanzia, ma fa una domanda come per dire chi c'è dietro? I servizi segreti? I cattivoni? La spettre? Soros? No, quello sta con la Bonino. Chi c'è dietro a tutti questi soldi che arrivano all'ultra destra? Mi congratulo con il grande spirito democratico e non da fake news della Presidente della Camera che ci rompe le palle con le fake news, ma ne inventa o ne instilla dubbi da fake news nei confronti del centro-destra. Straordinario. Poi, che altro ho visto? C'è un'altra cosa che ho preso a punto e non me lo riesco a leggere. Vabbè, il Movimento 5 Stelle mi interessa poco, nel senso che c'è il solito che ha un problema, ma si sono incastrati in questa legge per se stessi così dura, per cui ci vanno spesso. Mi spiace che qua la libertà fuori onda, non so che cosa... Ah, ecco, il Messaggero. Il Messaggero è l'unico giornale che racconta cos'è l'atteggiamento degli italiani. Mentre qua fanno le manifestazioni fascisti, antifascisti, cagate sulla resistenza, c'è una città che il sabato vorrebbe vivere, vorrebbe vivere, normale, Roma, e che si becca cinque manifestazioni che non vogliono dire assolutamente nulla. La gente, quando vede queste manifestazioni con questi ipocriti, cori, con Lampi, che rappresenta sua nonna, fantastico oggi, panza, che ci racconta chi è il Presidente Lampi, il cui cugino è uno di quelli che non piaceva la resistenza democratica, preferivano solo la resistenza comunista, quella che sparava e trucidava chi non la pensava come loro, perché questo ha fatto la resistenza, la resistenza comunista di alcuni beceri resistenti comunisti. Ne abbiamo pieni libri di storia, oltre che il sangue dei vinti di panza. Ma vado avanti con le ultime due, tre cosette del Movimento 5 Stelle vi ho parlato, Gentiloni vi ho parlato, l'ultima, devo dire, ed è la chicca, secondo me, finale. Noi ci lamentiamo di Gentiloni, di Berlusconi, di Di Maio, di Mattarella, non so, noi abbiamo questi problemi, ma il Presidente del Canada, il Premier canadese, che si chiama Trudeau, si è vestito come Peter Sellers, giuro, giuro, guardate le foto. Adesso lasciate questa pagina e andate a vedervi su internet le foto di Trudeau che va in viaggio in India. si veste come Peter Sellers nel film Hollywood Party. Chiaro? Hollywood Party, quando cade nel coso, cioè, ne fa di tutti i colori. Questo deficiente che si occupa del fatto che in Canada non si può dire mankind, ma si deve dire people kind, perché non si può dire umanità con la desinenza uomo, con la parola uomo, col man, perché è politicamente scorretto, va in India, veste se stesso e la famiglia, e questo non è politicamente scorretto, obbligare la moglie a vestirsi come una cretina, una canadese che si deve vestire da indiana, va bene? Beh, e sono talmente vestiti da indiani che il giornale indiano dice sono vestiti come non si vestano più neanche gli indiani, cioè come se noi ci vestissimo, non so, come un contadino dell'Ottocento se dovessimo venire in, andare, non so, in Puglia, in Basilicata. Questo deficiente che si veste come un indiano da canadese che si occupa solo di rispettare gli altri e non rispetta l'intelligenza umana, guardatela in quella foto. Lui e la sua famiglia, la famiglia Trudeau che va in viaggio come Peter Sellers va a Hollywood, lui va in India. Nel frattempo fa, come c'è scritto oggi sul Washington Post, fa un incontro in ambasciata e chi te invita? Un terrorista che aveva cercato di ammazzare un ministro del governo indiano. Grande Trudeau, grande il politicamente corretto che passa dalle piazze di Roma in cui ci rompono le balle sull'Ampi e va a finire in India con un altro cretino come Trudeau. è un cretino totale che per il momento sta governando il Canada. A ragione Cipolla, la percentuale di cretini è indifferente dalla classe sociale a cui si appartiene e anche dal ruolo che si rivolge. Si ha. Quindi c'è una percentuale di cretini, 2%, 1% tra tutti i presidenti del Consiglio del mondo, tra tutti i camerieri del mondo, tra tutti i giornalisti del mondo, tra tutti gli attori del mondo. Ecco, Trudeau l'abbiamo individuato. È la percentuale del cretinismo mondiale. Ciao!